Salve amici, in questo video voglio mostrarvi come risolvere le problematiche più comuni riguardanti i lettori CD-ROM, DVD-ROM ecc. Le stesse tecniche possono essere utilizzate anche per i lettori CD-audio casalinghi. Non mi soffermo molto su come montare e rimuovere i vari pannelli perché poi ogni modello differisce dall'altro. In genere comunque per i lettori CD-DVD troverete delle viti negli angoli, io le ho già rimosse, e quindi rimuovo il pannello inferiore. Fate attenzione perché le lamiere di questi componenti sono molto affilate e facilmente vi tagliate senza nemmeno accorgervene. In genere va rimosso anche il pannello frontale. Per rimuovere il pannellino frontale, spesso troviamo dei fermi a incastro posti lateralmente. Prima però di rimuovere i fermi, dobbiamo estrarre il carrello perché altrimenti il frontale non viene fuori. Per estrarre il carrello avete la possibilità di inserire nel foro presente su tutti i lettori CD-DVD, qui presente, inserite una graffetta, un elemento metallico abbastanza lungo, sufficientemente lungo, spingendolo internamente, verrà fuori il carrello. Io utilizzo direttamente la meccanica per far venire fuori il carrello. Vedete? In realtà vi faccio osservare che il foro presente sul frontale del lettore corrisponde appunto, qui internamente, a spingere questo elemento. Quindi io lo manovro manualmente ed estraggo il carrello. Quindi come vi dicevo, poi facciamo una leggera pressione su questi incastri laterali e viene fuori anche il frontale. Una volta rimosso il frontale possiamo passare alla rimozione dell'altro lato del lettore. La prima prova che andrò a fare è di verificare che il laser funzioni e che il motorino giri. Quindi alimento, in questo caso il lettore, di VDROM e devo vedere il LED che si accende. Attenzione, non lo osservate direttamente perché è un laser e quindi può danneggiare la vista. Ok. Accertato che il laser funziona, vediamo se il motorino gira. Quindi spengo l'alimentatore nuovamente, inserisco un cd originale per evitare il dubbio che magari a non funzionare sia un cd masterizzato e accendo l'alimentatore avete visto il cd ad accennato a girare ma non si è mosso perché non ha riconosciuto il cd in questo caso la prima cosa che possiamo fare è pulire con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico puro o se non l'avete di alcol denaturato la lente del laser fate attenzione perché la lente del laser è mobile non so se si vede nel video è mobile perché il circuito fa l'autofocus quindi viene smossa dal circuito per fare il fuoco dove la traccia del cd rom quindi effettuate la pulizia e verificate a valle della pulizia di non aver lasciato nessun pelucco del cotton fioc sulla lente fatto questo potete riprovare il funzionamento dopo aver pulito la lente gli altri elementi che possiamo controllare sono i connettori flat che portano i segnali e le alimentazioni da un circuito all'altro come si rimuovono i connettori flat? esistono diverse tipologie questo tipo qui va semplicemente estratto quindi cercando di mantenersi perpendicolari al connettore lo estriamo per rimontarlo allo stesso modo dobbiamo allinearci bene con il connettore e spingerlo all'interno quest'altro tipo di connettore invece va sollevata leggermente sollevata nel senso verso il cavo va spinto verso il cavo allontanato quindi dal connettore stesso da parte in plastica nera vedete questo movimento libera il cavo quest'altra tipologia è interessante che questo lettore ci permette di vedere diverse tipologie di flat cable quest'altra tipologia invece chiamata ZIF cioè Zero Insertion Force si solleva questa parte in plastica nera ok? sollevare questa parte libera il connettore una volta una volta aperti i flat cable collegati dai loro connettori con un pennellino in fibra di vetro tipo questo puliamo i contatti dei diversi flat cable vi consiglio assolutamente di avere questo pennello perché per la pulizia dei contatti è qualcosa di incredibile se lo proverete vedrete che sembra quasi miracoloso i contatti completamente ossidati ritorneranno come nuovi l'interno in fibra di vetro queste setole poi quando si consumano può essere sostituito così come per le mine delle matite una volta effettuata la pulizia possiamo rimontare i flat cable nei loro connettori facendo attenzione a rimontarli correttamente prima di rimontare questo tipo di connettore accertiamoci che la linguetta sia in posizione totalmente avanzata e lo stesso prima di rimontare quest'altro tipo accertiamoci che la linguetta sia completamente sollevata allineiamo bene il connettore e tenendolo leggermente in pressione verso il connettore il flat cable verso il connettore abbassiamo la linguetta osservando che sia perfettamente parallela rispetto al connettore ok fatto questo per provarlo aggiungo un peso sul cd perché perché faccio questo perché altrimenti il motorino slitterà rispetto al cd vi faccio notare che dall'altra parte c'è effettivamente questo peso che spiaccia il cdrom sul motore senza di questo il motore si metterà in rotazione ma non lo vedremo non vedremo il cd girare non solo non lo vedremo noi non lo vedrà nemmeno la lente laser il scusate non lo vedrà nemmeno il laser e quindi si fermerà immediatamente perché crede di non avere nessun cd rom vediamo invece cosa succede se appoggiamo un peso sul lettore sul cd avete visto siamo riusciti a fargli agganciare la traccia e adesso il lettore sta funzionando quindi vi ricordo e vi riassumo cosa abbiamo fatto puliamo puliamo la lente puliamo la lente del laser con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico o alcol denaturato poi dal lato dove si inseriscono i connettori sulla sulla scheda puliamo con un pennellino in fibra di vetro vi consiglio assolutamente di procurarvene uno le setole sono intercambiabili quindi quando finirà vedete tramite la rotazione fuoriesce la fibra di vetro alla fine quando finirà questo elemento può essere cambiato esistono i ricambi però è veramente un toccasana per tutti i contatti elettrici quindi pulite i contatti dei flat cable vi ho fatto vedere anche come si estraggono in questo caso sollevate la linguetta in questo caso allontanate la linguetta dal connettore in quest'altro caso semplicemente tirate il cavo allontanandolo dal connettore grazie per oggi è tutto arrivederci alla prossima